La Spalfa nel lino di coda accoglie un meritato punto sul campo del rimaneggiato Legnano che però è al quarto risultato utile consecutivo. Tutto sommato anche questo non esaltante pareggio alimenta una classifica abbastanza buona per il Lilla. Il pubblico tuttavia non è rimasto molto contento. Invocano il rigore gli Spallini per questo intervento di Zaninetti su Bresciani. Battaglia piuttosto aspra a centrocampo con qualche proiezione in avanti. La Spalla è meno disastrata di quanto la classifica faccia immaginare. Le conclusioni dei ferraresi sono come quelle dei Lilla sporadiche e quasi sempre dalla lunga distanza anche nella seconda parte della gara. Grossi brividi insomma non ce ne sono anche se i ferraresi sembrano più determinati ed il portiere legnanese Belletta è chiamato sovente in causa. Le numerose assenze incidono sul rendimento dei Lilla. La Spalla irritisce i legnanesi che non trovano sbocchi efficaci e la partita termina a reti bianche.